ciao da fatina birichina oggi il corriere mi ha consegnato questo fantastico gioco per la nintendo switch ed è animal crossing new horizon è uscito fresco fresco penso il mese scorso o due mesi fa e io me ne sono letteralmente innamorata guardando i video su youtube allora l'ho acquistato su amazon al prezzo di 49 euro circa e vi dico subito di che cosa si tratta allora se il caos e la frenesia della vita di tutti i giorni ti hanno stufato tom nook ha appena creato una proposta su misura per te il suo pacchetto isola deserta preparati a mollare tutto e a creare una nuova comunità sulla tua isola deserta personale non hai sempre desiderato un luogo dove fare quello che vuoi quando vuoi come lo desideri rimboccati le maniche e inizi a collezionare preziose risorse per costruire tutto ciò che ti potrà servire dagli strumenti del mestiere agli edifici del tuo nuovo villaggio il tutto sempre solo secondo il tuo gusto personale conosci nuovi amici ed esplora un mondo in continua evoluzione al ritmo delle stagioni e di ogni condizione atmosferica possibile infatti una delle cose che mi è piaciuta in particolar modo è stata proprio questa il fatto delle stagioni che cambiano in base appunto alle nostre infatti all'inizio c'è la possibilità proprio di scegliere l'opzione a secondo in che luogo ci troviamo e quindi abitiamo allora io ho pensato una cosa adesso al momento è a dir la verità non ho proprio molto tempo però a giugno vorrei iniziare con voi questa bellissima esperienza avventura anzi la chiamerei su quest'isola e soprattutto sulla mia premetto che con la nintendo switch ho giocato pochissimo soltanto con il gioco di harry potter però voglio provare lo stesso a fare appunto dei dei video per giocare poi insieme a voi quindi farvi vedere come il gioco come come inizia secondo me guardate non vi anticipo altro perché è davvero davvero bello ok allora questo video termina qui io vi do un bacione vi abbraccio forte forte se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale e a presto un bacione da fatina birichina ciao ciao ciao